Cari amici, oggi è un giorno di lutto, è morto Franco Zeffirelli che era nato a Firenze nel 1923, è stato un grandissimo regista sia cinematografico sia teatrale, in particolare sono memorabili gli allestimenti dell'opera lirica con la Callas protagonista, ma Zeffirelli è stato anche una mosca bianca all'interno del mondo della cultura italiana, è stata una mosca bianca perché si è dichiarato anticomunista, cattolico, omosessuale e da omosessuale ha anche preso a pesci in faccia la cultura del gay pride. Tutto ciò non lo ha aiutato ad avere i favori della critica che sono andati invece personaggi forse meno dotati di lui, ma in ogni caso io vi voglio raccontare Zeffirelli con le parole di Zeffirelli tratte da interviste che ha rilasciato nel corso degli anni. Lui studiò nel collegio del convento di San Marco a Firenze, il suo istitutore era Giorgio Lapira che poi diventerà sindaco e dice Zeffirelli, fu lui Giorgio Lapira a spiegarmi che l'aborto è un crimine e che i totalitarismi, fascismo, nazismo e comunismo sono tutti uguali, il comunismo però è più pericoloso. Poi fece la resistenza con i partigiani cattolici e liberali e ricordando invece i partigiani comunisti disse questo. Rischiai di essere ammazzato dai comunisti, li vidi fare cose orribili, assassinare un prete solo perché aveva benedetto le salme dei fascisti e gettare il suo corpo nella fossa che usavano come latrina. Zeffirelli poi si diploma all'Accademia di Belle Arti di Firenze e diventa aiuto regista e anche amante di Lucchino Visconti, di cui dirà sempre benissimo. Per me Lucchino era il modello di tutto quello che conta davvero, era un uomo complesso, era autoritario, era umile, era egoista, era generoso, folle e saggio. Un tormentato Don Giovanni e un aristocratico del sesso facile. A questo punto Zeffirelli è pronto per l'esordio improprio, in quegli anni inizia anche la sua collaborazione con Maria Callas. Per me la storia della musica si divide in avanti Callas e dopo Callas, questo penso che dica molto. Poi c'è il famoso La bisbetica domata con Elizabeth Taylor e Richard Barton, poi Romeo e Giulietta, poi Fratello Sole, Sorella Runa, Gesù di Nazareth, tutti i film famosissimi. Pur essendo cattolico convinto, Zeffirelli si è dichiarato omosessuale, ma se l'è presa con il gay e il gay pride. Sentite cosa dice. È l'etimologia. Gay nasce nella cultura puritana, l'idea che per bilanciare questa anomalia devi essere simpatico. Gaio. E così in America vediamo questa roba da carnevale. Si truccano come pagliacci, tutti felici, tutti allegroni. Siamo così spiritosi e divertenti che ci chiamano gay. Una specie di attenuante. Ma si può. Dire a Michelangelo che è gay. Dire a Leonardo che è gay. Andiamo. Essere omosessuali significa portare un grave peso di responsabilità e scelte difficili, sociali, umane e di cultura. Poi c'è il famoso episodio in cui chiese, Paolo VI vide il film e poi chiese, Gesù di Nazareth, e poi chiese a Zeffirelli che cosa poteva fare per lui. E lui, Zeffirelli, gli rispose, vorrei che quest'opera arrivasse anche in Russia. E Paolo VI gli rispose, lui mi disse profeticamente, Paolo VI appunto, abbia fede, presto sul Cremlino sventoleranno le bandiere della Madonna al posto di quelle rosse. Nel 1993 torna al cinema con storia di una capinera, dopodiché entra in forza Italia come senatore, rimane per due legislatori e questo è il suo, diciamo, resoconto di quel periodo. Mi odiavano perché non mi accodavo, addirittura perché credo in Dio, ma l'odio dei comunisti mi ha solo spinto a fare di più e meglio, anche se l'ho pagato caro, non solo con pregiudizi e ostracismi di tutti i tipi, non a caso ho svolto la mia carriera, soprattutto all'estero. Contro di me prepararono perfino un attentato, erano gli anni 70 e doveva sembrare un incidente automobilistico. Zeffirelli però restò deluso dalla sua attività parlamentare e disse, volevo dare il buon esempio della cultura a servizio dalla società. Non erano i tempi come non lo sono nemmeno oggi. La politica purtroppo è il lusso dell'uomo qualunque che crede di poter fare una grande carriera al di là delle possibilità che tutti hanno. È morto un grande, onore a un grande, stasera riguarderemo certamente in tv uno dei suoi film.